Siamo al di sotto di un soppalco alto 1,90 m nel punto più basso della struttura, cioè questo punto qua. Al di sotto è stato possibile realizzare un ufficio con un tavolo di due metri da una parte e un altro pezzo da 1,20 m dall'altra. Una mensola per appoggiare addirittura una scrivente e una pratica cassettiera.